Sìììììììì! il prego c'è da corre immediatamente di là, prova a portare a casa anche il fallo il mano che attacca, si prende questo tiro il sinistro, lo sapete nel fondo che ha scazio, la torre a punza concreta soprattutto nel fondo il secondo quadro il doraglio è la salvezza, la torre è la torre, l'alto del 65 Massimo Rettano con la bomba un ballone per fatti e poi la torre è la torre e poi la torre è la torre Marwin Marwin